Lo sviluppo economico sarà il tema centrale delle politiche regionali per disinnescare una recessione incombente laddove si prevede una riduzione del PIL superiore al 10%. È necessario rendere la campagna la regione dove l'efficienza amministrativa sia possibile attraverso una semplificazione e una riduzione dei procedimenti. Per una campagna a burocrazia zero bisogna rendere finalmente operativi atti unici e autorizzativi per i molteplici permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per attrarre investimenti e favorire nuova occupazione. È fondamentale potenziare le infrastrutture materiali e immateriali, in particolare la banda larga.